Ah, un attimino se la chat funziona, aspetta, mangio che qualche ragno della polvere mi ha tirato una freccia, non si sa chi, in silenzio voi altri, aspetta, è cominciata? In silenzio voi altri, ah, è stata mia voce, ok, è stato stato traumatico, aspetta, è salita, ciao ragazzi, uuuuuh, ciao bellezze, come state? Aspetta un attimino che devo, allora, 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 ciao, benvenuti, benvenuti in live, allora, ciao Antonella, lauda, non riesco a leggere, sono scema, allora, che dire, che dire, che dire, ciao Samu, benvenuti in live ragazzi, allora, 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 un attimino sono, come al solito, appena svegliata, mezza scema, aspettiamo che arrivi un attimino un po' più di gente che facciano tutti quanti i saluti carini, carini, no? Ciao Raffa, ehi, ahi, oh, dovete, oh, sti ragni della polpa, Massi, vieni qua, hai rotto le palle, Massi, Massi, aiuto perché mi devi sparare di continuo? Hai rotto le palle, mi sono sprecata tre pagnotte per colpa tua, vieni qua, vieni, vieni telecamera, vieni, vieni, vieni telecamera con me, mannaggia, ciao Fragolina Piccolina, ciao, 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 oh, le, ma ti evite il cazio? Ma lì, ma lì, guarda lì Ah, ma altri ragni della polvere Vieni Vega, mannaggia Ma è il vostro modo per entrare in live, ragazzi Spararmi e aspettare che vi sgriggo A quanto pare oggi sì Ah, che vale Ciao Raffi, benvenuti Ciao Thomas Gamer, benvenuti a tutti quanti in live, ragazzi Benvenuti, benvenuti Allora Ciao a tutti Che dire, che dire Stiamo, stiamo, state bene, ragazzi Rispondete a Tommaso, state bene Cos'è lo stare bene nella vita Se non è la pura avvenzione Dell'essere Sì, vabbè Il saggio Il Pogodog Sì Bellissimo Tu Mega Che sei arrivato in ritardo Ragazzi, se la live è cominciata leggermente in ritardo È solo colpo di Mega Scrivete tutti quanti in chat Ciao 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 Raffi Dato che è arrivato in ritardo Stavo facendo i miei bisogni No, no, la droga arriva in ritardo Ti becca un pesce in faccia Guarda Ecco Ecco Bellissimo È stato traumatico Cosa si fa oggi? Ah, adesso ve lo spiego Intanto Diciamo Benvenuto anche a YPFY Eeeh Bellissimo Dove stai? Dove stai? Aspetta Se non è uno scemo Se non è uno scemo Eh, ma è scuro come le ombre Non si vede Eh, comunque È l'ultima persona Ciao Spino Raptor Benvenuto Benvenuto Devo dire Il mese che farà l'epidemia Eeeh No Non si può dire Non si può dire Non si può dire Non si vede Benvenuto YourNameless Ciao 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 Bellissimo Guarda quanto siete belli E colorati tutti quanti in chat L'ultimo personaggio Che abbiamo sbattuto le chiappe In faccia a YPFY L'ultimo personaggio Che abbiamo è An Benvenuto An Eccolo lì Guarda Non come sono che arriva Ah Aspetta Forse ho capito Vali Ecco Non riuscivo a smutarmi Scusate Non riuscivo a smutarmi Eh, ok Sei acustico Ehi Ehi E' acustico Eh, sì Lo so Dai, fratello Si dice E' brutto E' brutto Comunque No, scusa 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 Ma non lo senti con che audio E' molto acustico l'audio Eh Ma Ha un'acustica Ha un'acustica da paura Io vado dopo C'è l'altro caso Però è arrivato Sì, già piango Comunque Benvenuti Benvenuti tutti quanti in live Allora 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 Guarda succedere la live Bellissima di oggi Innanzitutto Continuiamo a costruire un pochino Le case Bellissimo Che ricordiamoci Questa qua E' una vanilla fantastica Fantastica Vedi video con altri youtuber Eh beh Scusa Al terra non è con Ciaciccia Al terra non è tipo Una serie con altri 30 youtuber Non mi sbaglia C'ho C'ho Dea No Dea non c'è E mi dà molto fastidio Perché tipo Non mi ha avvertito di niente Semplicemente non si è presentata Poi la flameremo Tutti In chat Scrivete Scrivete tutti a Dea In privato No 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 Non ho fatto Non ho fatto Non vado a svegliare Stare raccomandosi No Non c'è Dea Raffi Dove l'hai vista Dea C'avevo già Mi lagga la live Com'è possibile Perché lagga la live E' una cosa No non lag Sto vedendo non lagga Si sta dicendo di audio Dea dove sei Bravissimi Tutti quanti Ascia che Dea dove sei Allora Lo scorso La scorsa live Ci siamo fermati Con il Con la costruzione Delle nostre casette Quindi in questo episodio In questo episodio Voi Voi Proprio voi In chat Ma ne ha già il credo Proprio voi Andrete a votare Quale delle nostre cose Era la migliore Mettete a dare di picchiarvi Siete dei bambini Scusa Stavo guardando bassi Io ero convinta Io ero l'unico Stavo facendo Controllando la carità Della live Scusa Ti facevo da tecnico E tu E tu Fancubo 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 Scusami Fancubo Fancubo Finalmente abbiamo la live in 1080 Finalmente ho scoperto come si fa Sono Godibus Sì 4k 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 prossima live Va bene Stavo facendo un po' Neottina Non so se state vedendo Fiori 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 Aspetta 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 A sto punto Contro Perché il lag la live Controllasse la qualità Può darsi che in 1080 Non reggete bene la live Provate a mettere Sette di denti Qual è il colore di Valfrutta E il colore di Valle è il blu Quello di Della è l'Aggurro Non li confondete Mi raccomando Massi stavolta è innocente Guarda che bello Venga con la faccina Anche tu Gli fai la faccina Eeeh Bellissimo Sono proprio scemi Vabbè allora Quindi Intanto La musichetta ragazzi Fuori piove il sole C'è L'arcobaleno E qui Che bello Andiamo a vedere le prime case Vi direi di passare Da quella lì Da quella lì Più brutta Ok Almeno a mio parere La nostra Quindi chat Rimanete attivi Perché voi 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 Dovete decidere Quale delle case È la migliore Va bene E adesso partirò Da una Selezione appunto Personale Ma voi Chat Sceglierete Quale delle case È la migliore E chi Avrà la casa migliore Si meriterà un premio Siete pronti? Ciao gondoliere Benvenuto Benvenuto Mi faccio non ci sto guardando Troppo Sembro gondoliere Ma Che Cosa state facendo Siete tutti i matti Su Andrò a destra bassa Scolacciate Andrò a destra bassa Fino a che non trovo la casa In questione No No Questa qua è la migliore A mio parere Quindi vado dritta 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 Giro a destra Giro a destra No No Ma è la vicinzia ragazzi Noi si Noi si Dicono Ma Raffa è il mio miglior amico Assolutamente Soccia Soccia Marchino Soccia Siete pronti a vedere La casetta Siete pronti? Oh Oh Infi Oh Siete pronti? Siete pronti? Chi è pronta? Questa qua è la casa di Val Chi ha le sue Gli altri bassi Ed è A Ok Siete pronti? Oh 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 Eh Se Dea non viene mai a finirla Lei che deve buildare Perché lega tutta l'idea Non voglia Non vuole che ne tocchiamo Vabbè Insomma Questa qua è la casa Purtroppo è ancora un po' Blanda Ecco Per me la nostra è più brutta Però è la più grossa Eh Per me Eh perché tra è la più grossa Però è la più blanda Cioè dentro non c'è niente ancora Dobbiamo Eh Però ha fatto le impalcature E le impalcature Bellissimo Stupendo Guardalo Non ci provare nemmeno sai Ecco A lui va bene Non mirare Eh non mira Ciao Tando No No aspetta Non stagliare Non è successo Ciao Venom Benvenuto Ciao Levi Popolo di Youtube Eh no Il popolo di Youtube Voi siete il popolo della terra Oh ma Non avevo ancora trovato il nome per il team Eh Rainbow Friends Eh ma che è il Rainbow Bello Rainbow Friends Eh no però Adesso andiamo Andiamo dalla seconda Che reputo la più bella Che è quella di Come ti chiami È un po' lontanino In Vipalle La di Vipalle Di Anne Palle Ah in Palle Fratelli di Palla Di Fratelli di Palla Andiamo a vedere la casa Di Fratelli di Palla Ah Mi sono spezzata I gamboni Mi sono spezzata E l'hanno fatta in cubo ai lupi Non si sa la motivazione Eh ma perché è bellissimo il mare Cioè tutta l'acqua Lì E quella lì Vedete anche il tetto che ha le corna Mi sa che la fidanzata gli ha fatto un brutto scherzo Eccolo qua E niente Piccolina Con questo coso Con lo Ying Lo Yang Molto figo Molto figo Con la Slotel Eh l'ha messo la Slotel Come si chiama Palla dorata Palla dorata Palla dorata È vero Bellissimo Ci mette un altro pesce L'altro pesce Ma non lo mangia Non lo mangia Non lo mangia Non lo mangia Non nuota E si mangia a quel pesce Nuota salmoncino Non funge Il pesce non funge È una roba assurda Bellissima Bella Che cosa carina Guarda come ti visibbero È me stesso fantastico Mi sono vissuto Ah che carino Grazie mille Raffi Grazie mille Bellissima come sei Apprezzo 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 Bellissima Ma solo in due Hanno messo like Giusto ragazzi Oh Chiedo Siete in venturi Siete in venturi a guardare In due che si è arrivati esattamente guarda che sei notato a mettere le like nooo sei un matto sei un matto e no non si dice inca incapponato 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 ciao alfa benvenuti in live mamma mia subentriamo nella casa rubiamo vieni vieni così si fa guarda un sacco di corna ma sei un matto ma no ha rotto tutto cosa fare ta riguarda cosa ah qua eh si dato che ma no ma basta che ha rotto i vetri per entrare aspetta 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 quali i vetri rotti scusa io non ho nulla aiuta 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 intanto mi vesto così non rimango nuda se non vi dispiace so che a mega faceva piacere però è mega a proposito infine mi puoi ridare il mio unico pezzo di armatura per piacere è il mio unico pezzo di armatura che cuccio nooo nooo ma certo raffassarei il mio fratellino per sempre mamma mia allora vediamo poi è bellissimo stiletti uno nero e uno bianco bellissimo e poi avevamo pensato di fare delle stanze sotterrate ah bellissimo perché sennò è troppo piccolino molto carina molto carina molto carina chat vi piace ciao lupix benvenuti in live andiamo dalla casa che almeno io reputo la migliore non perché è la mia ma perché è la tua intendi per caso la casa copiata eeeh non si dice allora aspetta effettivamente diciamo una cosa il fatto che io questa qua la reputo la casa più bella però allo stesso tempo è quella che abbiamo cioè abbiamo mega ho preso non mi prendo i meriti mega bara hashtag mega bara hashtag hashtag in generale l'unica cosa presa è l'esterno in generale sì sì no certo 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 però comunque eeeh niente capito quindi la casa è un po' un po' scopiazzata da un da un tutorial su youtube però a voi non interessa vero? un attimo hashtag mega swag mi piace tanto la casetta oh grazie a denise denise stavo chiamando dennis mi consiglio di creare una stradina certo assolutamente siete pronti questa qua è la casa che io reputo la migliore per nessuna motivazione onestamente mi piace un sacco mi piace un sacco va bene va bene aspettiamo a nino dov'è a nino sto arrivando sto arrivando eccolo ma ciao ma ciao ma ciao eeeh 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 ecchola qua guardate che carina con i tappetini viola e lime perchè eeeh 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 dai eeeh 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 Ciao Dea, è arrivata Dea, adesso vediamo da qualche parte, forse Scusate un attimo, scusate un attimo Io devo ancora finire la nostra casa Eh lo so Io devo andare a fare una cosa, però torno Tranquilo, sì sì, non ti preoccupare Non si fa Dov'è Dea? Eccola lì, Dea Ciao Ciao, te salutate Dea, anche se è arrivata in ritardo In ritardo In ritardo In ritardo Ehi, 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 è brava No In ritardo Sì, sì, no, non so Io direi che Dea avrà lo stesso trattamento di Mega Per il ritardo Qual era il trattamento che abbiamo dato? Pesce in faccia Pesce in faccia Prendi un po' di pesce Mangia più pesce Ah, mi seguo bene, tipo di tirare un porcellino in faccia Una roba assoluta Un shapeshifter, eh Questa qua è una casina Ma non si ferma qua la casa Ragazzi, siete pronti? Intanto, intanto facciamo il rituale Del... Avanti Promete, promete, promete Avanti Avanti Succa, allora Benvenuti, benvenuti a casa nostra Benvenuti a casa Leamington E Megintone Eh? Troviamo... Casa Lega Bello, mi piace Lega Casa Lega Bellissimo, bellissimo Mmm... Mmm... Cosa? Mmm... Che cosa? Questi giovani d'oggi con la mente sporca Questi giovani d'oggi con la mente sporca Per forza No, così Il bunga bunga Che cosa? Che successo? No, il bunga bunga no Qua c'è il perro di sopra Che ovviamente È un po' vuoto Sono i letti separati Ma è separato Ma è separato solo perché Dispari qua E Megà Megà roteva Vabbè Ci sta, ecco Nome del team E non ce l'abbiamo ancora Nome del team È una roba assurda ragazzi Eh, però non finisce qua a casa nostra Perché noi siamo efficienti Mega efficienti Eh, ho messo un blocco Lì non volevo Toglietelo Toglietelo Ho sentito Ho sentito un vetro in meno Ah, anche io Massi 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 No, no, no Cosa hai fatto Massi? No, niente Massi cosa hai fatto Di suono di me Oh mio Dio No Ma a vedere Massi se ne va Ah Dai Massi Ma vuoi dire la schia Ma perché sei Un essere inutile Cos'ha? Sì, sono inutile Magari FKK Non dire bugie FKK 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 E niente Stanno Stanno scippando il Tando In chat Cosa? Che è successo? Che è successo? Boh Comunque Dicevo Eh Non ci si ferma qua la casa Perché Do 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 E basta Finito qua Ah Alla fine Non ho più costruito Mega Non mi picchiare Venga non mi picchiare Sono inutile Lo so Non mi picchiare Non ti picchiare Ma ti picchio io No ti permettere Se sono affidato No 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 Non ho tornato Sono tornato Dove siete Dove siete Servono i blocchi Per la nostra casa Eh Ma ti ho riempito Ti legno Utilizzalo Eh Esatto Eh Questa qua è la casa Ma Perché Vicky Non vi urlate Amici Non vi urlate Non vi urlate Vicky 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 Oh Non mi dovete parlare Adosso Mamma mia Vives Molecolo Basta Allora Dicevo Questa qua È la zona Storage Qua facciamo tutto Tutto il coso Bellissimo Con Cass Un acquario Lì ci sarà Portare Del Nia Diorion E guarda Nia Diorion Guarda come si casa Guarda come si casa Perché sa che le idee Sono una roba assurda Comunque Hai preso a lei No piccola Lei mi vieni qui Vieni qui Lei mi do un pesce Va bene C'è la di sette Ti do un pane Non ho capito Ricky Benvenuto Enrico Benvenuti in live Per me la carne marcia A caso di lei Mi è la più bella Adoro le scale Vado Eh Sì È totalmente ideata da me No aspetta Ho detto Francamente Le scale Le ho scelte io Nel senso Ho detto Ah io voglio Stavere la casa Sotterranea E cose Tu non hai detto La scala Sotterranea Così Tu avevi detto La zona Sotterranea Bello La scala L'ho fatta io Eh Vabbè Ma si succa Ogni tanto Nella vita Ragazzi Quindi Eccoci qua Siamo tutti quanti Quindi Quindi Chat 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 È il momento È il momento È il momento Che voi scegliate Quale delle case È la migliore Vedete qua Tutti quanti Dietro di me Bellissimo Stupendo Mamma mia La nostra Non è ancora finita Se votate La nostra Non vi tolpe Ciao Alfi Un po' di pane E niente Se votate La nostra Giuro Giuro Che la finisco La mia Vi do una palla Da basket No 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 Abbiamo due mogli Ci sono due mogli È vero Eh beh Come funziona Per i due anni Due mogli E abbiamo il figlio Il figlio È È più grande di voi Il figlio però È Che male che mi hai fatto Ma no Il nostro è già andato a vivere da sola Visto quanto è efficiente Non ho capito Ma perché ci ha detto È andato a vivere da sola È molto efficiente Noso figlio Sì Ma è andato a vivere con un altro bambino Sì Cosa c'entra io Non lo capisco Non capisco È bellissimo Sì 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 Allora che bello ho detto Bellissimo ho detto Facciamo un rituale Fuori piove il sole C'è C'è Marco Baleno È qui per me Bellissimo Marco Baleno È venuto il giorno È venuto il giorno Basta Io sto imparciale Scelgo le mie mega Eh Non so Perché è quella più completa Sì Perché gli altri sono delle pippe E loro hanno continuato Nel loro caso È una roba Che so Perché mi pecchi Insomma L'ha stato dice Che io e mega siamo vincitrici Beh ma non mi biasimavo Sono una fantastica builder È piccola È piccola come cosa Grande mega All'inizio Qua è piccola Però poi si espalderà un sacco Sotto terra Non è ancora finita La zona sottoterra È tranquillo Quando la finirete Allora Si potrà giudicare Così come la nostra Eh no Eh io l'ho detto E infatti In questo episodio Continueremo un pochino A Mi picchi sempre Mi picchi Cosa ti ho fatto Di male No No Va bene Ma che schifo Cosa ridi Ma cosa Aia Mega potrei scrivere in chat Il commento Ah Cosa Ti sto usando per svuotarmi L'inventario Mega ti chiedono di salutare in chat Proprio in chat Eh Mi sono buttata Proprio in chat Proprio in chat Proprio in chat Poi ci sta anche Sta struttura Che ha fatto mega Per le canne da zucchero Per fare Le enchanting tables Però Che palle Mega Proprio in mezzo alle palle L'hai messa Ah comunque Per la cronaca Ragazzi Oggi Val Non c'è perché Doveva Aveva una partita Importante Cosa Non ho Non so C'è voi immaginate Una fortuna Vaglio Ma la fortuna Vaglio Non ho perso Che giochi Non so che la guardi È andata a perdere È andata a perdere Sì sì E chi è che ha tirato Puglia al microfono In questo preciso istante Chi si è permesso Cosa Secondo me Mega 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 Come ti difendi Da questa cosa Mega Non c'entro Non lo stavo toccando Il microfono Chi ha tirato Puglia al microfono Esca subito il criminale Stavo scrivendo E anche se non fosse Il criminale Lo dica comunque Infine come mai Tutto così È colpa sua Ma che cosa Ti domini una cosa Non ho stato Fuglia Cosa hai Oggi Non ho stato Fuglia Non ho stato Fuglia Non ho stato Fuglia Nasconditi Nasconditi Allora Che dire Che dire Questa qua È la situazione Delle nostre case Allora Praticamente Lì intanto Smonteremo Perché ho ripetuto Il mio Hai fatto Un lavoro Del cavolo Cosa mi hai messo a fare Quella roba lì Scusami È inutile che ti giri In modo In modo Da Dark Souls Tanto lo sfondo io Poi Ho capito tesoro Ma intanto In mezzo alle palle Cioè io volevo fare Tutto E lei Ah sì perché Ha fatto lì tanto Eh La chat Ti cercava Diceva Eh ma Dio La mia Amica Migliore Eh no Non dire Cucco è bannabile Mamma Non volevo Farlo Non volevo Farlo È più che anche Te adesso Non volevo Pucchiarti Cioè Non volevo Ucciderti Nel caso Mi dispiace Questo mi pare Bullismo Sai chi lo diceva Mamma mia Guarda Non tiro fuori Il nome Di me Di me Mua Mua Yeee Siamo sposate Allora Mi dai un bacino Anche tu Oh In testa Puh È in testa Mi hai un po' Predictato Eh lo so Però c'ho un'ascia Anche questa Da dei bambini Eh Madonna Chat Che cosa vogliamo fare Qua ci vanno fan art Bello Fan art Che fan art Oh sì sì Fan art Fan art Di cosa Parlate Parlate Mi piacciono le fan art Chissà chi Newtolemi Ma poi hai preso i miei semi Ah assolutamente Fraguline È vero Dovremmo cominciare a fare le stradine Perché il coso è molto Beh scusa Allora faccio una roba amici Vi ingegnate Guardate bene le palle degli occhi Vi ingegnate Spostate questa Scusa Che sono l'unica senza armatura E non lo faccio mica apposta Io sono scema Perché sei la builder Non hai bisogno dell'armatura Giusto Spostate Spostate quella struttura La mettete qua dentro la roccia Che secondo me fa figo Eh mega La fall art di team Perché non hanno Eh ragazzi Ma nessuno ha ancora fatto Delle fall art di infio Di Anne Ma dai Di me Di te No Che sì L'ha fatta Anne L'ha fatta Anne Letteralmente Prima Prima di entrerne il team Ma quella Ma quella Ma quella che abbiamo Come faccio il profilo del team Scema Del gruppo Del Whatsapp Whatsapp I formicoli al pietra Amici sto morendo Sto morendo No Madonna No il microfono mi ha censurato C'è gente che ha fatto Mega in tazzina E voglio essere anch'io in tazzina Eh ma quella è blu E non lo chiede Blu E devi chiederlo Blu Anche voglio essere in tazzina Eh le mitazzina Ragazzi Le mitazzina C'ha hashtag le mitazzina Le mitazzina Le mitazzina Regà preferite le mitazzina O mega tazzina Le mitazzina Per forza Mega tazzina Mega tazzina Eh ma perché Mi vanno tutti quanti Spazio man Ho deciso Come la mettiamo Chiedetemi immediatamente Scusa Anna sei il primo Aspetta Aspetta Sì Aspetta Guarda come ti chiedo scusa Guarda guarda Vediamo No aspetta Vediamo Aspetta Sto aspettando le mie scuse Anna Sì aspetta Aspetta No ancora troppo Sto morendo No stai ferma Stai ferma Stai ferma Non ti devi muovere Non mi devo muovere No no stai ferma Sei un matto Anna Ti do due secondi Uno Cosa hai fatto Come sei arrivato lì Come hai fatto Una talpa Chiara Che marca Ah hai fatto un pochino Ma adesso sei Ma sei una talpa E cosa Infi Tutto ok Infi Tutto ok Infi Cosa vuoi da me Che non ha talpan Ancora Talpan Talpan Ah Ai 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 Come 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 faccio Non p E adesso come saliamo Eh la roba assunta Ragazzi Bisogna Bisogna prenderla Con le cattive qua Aspetta Tipi X Kuroi Come ti chiami I 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 Perfetto Tieni Tutto ok amici Abbiamo Stirpato il problema La radice Che cosa vogliamo fare In questa live Proponeteci amici Dai su 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 Sapete che io amo Le vostre domande Intratteniamoci A vicenda Voi ci fate le domande E noi giochiamo Perché boh E' divertente così E' sempre bello Per forza Voi ci sono tutti quanti I matrimoni Cose bellissime Stupende Magnifiche Proponiamo Sono tornato Ciao Raffa Bentornato Che storia Anna Allora io dopo questa Penso di essere picchiato Che cosa hai detto Perché Io propongo Il matrimonio Tra Massa e Mega Oh Ho provato Ho provato Ho provato C'è Mega Che sta Cercando Molto Aspetta 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 Anche perché Sono un po' Gelosina E devo bisogna Ammettere Ragazzi E non mi sta cagando Io volevo Nessuno è geloso Andiamo a fare una cosa romantica E' sì che ti sta cercando E' partito E' partito E' partito E' partito E' non è vero E' qua nel buchino Ah ok Si sta smontando tutto quanto Apro Massi Idea Continua a rifiutarmi Cosa Cosa Massi Mi rifiuto Ah ti rifiuti Ok ho capito Che ti rifiutasse Lei Madonna Mi rifiuto io Trova l'idea Altro che Ciao Sinax Benvenuto Ciao Rex Benvenuto anche a te Benvenuti in live Ragazzi Avete messo like Alla live Anna Spiega perché Doverò mettere like Alla live Allora Voi dovete mettere like Alla live Perché Guardate Mettete in terza persona Un attimo Terza persona Sì terza persona Guardate Guardate per il faccino Guardate per il faccino Dai Io Ah io Eh Grazie Non mi ero raccorta Ha detto con bel faccino Mega ha detto con bel faccino Ha detto con bel faccino Ha detto che cosa carina Ti voglio bene Ti vorrei essere geloso mega Mua Mio proprio figlio Ragazzi Mio figlio Ah sì Aspetta Mega picchialo Eh guarda che Mega perché Perché dovrebbero mettere like Alla live Perché dovrebbero anche iscriversi Se non sono ancora iscritti Eh sì Marco E' andato No Marco Valero lo decido io Quando succede Eh va bene Eh niente Eh niente Mega non è molto Mega anti Anti scamo Perché le mie simpatiche Esatto Dovresti iscrivervi Perché sono simpatica In fondo In fondo Almeno ci prova Almeno ci prova Dea Dove sei Dea Dea ti sfondo di pozzo Dove sei Prostrati subito ai miei piedi Dove sei Immediatamente Hai tre secondi Prostituisciti subito Ehi No Ehi Anna Anna È una professione 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 Non puoi dire niente di meglio Vieni subito qua Subito Allora Allora Aspetta C'è un Mega È duro duro È seduta Ma è seduta Ma ci siamo su Mega Allora Come ti chiami Dea Allora Allora Ea tuanne Non hai permesso Allora Dea Spiegami perché Dovrebbero iscriversi Immediatamente Subito Una motivazione al volo Perché c'è Infi Bellissimo Infi Dove sei Eh vengo da voi Guardami nelle palle degli occhi Aspetta Senti tutti Fiori piove Il sole C'è L'arcoba nero Equipere Sì Bellissimo Quindi infi Perché dovrebbero iscriversi E mettere like alla live Perché dovrebbero condividerlo Con tutti quanti Nero amici Perché non possono Ricevere le palle Eh Per non ricevere le palle Se non È brutto È brutto Quali palle Palle da basket Da basket ragazzi Palle da basket Gratis per tutti quanti Se vi iscrivete Se lasciate like Alla live Non mi bicchiere Le miserie Favate una su di esso Oddio Oddio Darkiera ha messo Una fanart su di esso Aspetta Andiamo subito a guardare Vediamo vedere la fanart Aspetta Reazione in live Reazione in live Ragazzi Non so se posso metterla come Nooo Che fanart Che fanart è Aspetta È una cosa monetizzabile Posso guardarla C'è scritto una parola Non bella No Ma dove Darkiera come è puttato Io non la vedo Aspetta vediamo Io non la vedo Vediamo C'è un'altra Ma dove Comunque è sbagliata la carnagione di infi No Ah che bella Fatela fararti di infi Bellissima Darkina Bravissima Bellissima Bellissima Grazie mille Io avevo capito Marchino Non capivo Era la prima volta Darkina 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 Io avevo capito Marchino Non capivo Sì assolutamente È bellissima Stai migliorando un sacco Bravissima Mamma mia Che bella Vuole di te Per scriversi Lemi Perché Si Mi vuole Che carina Grazie Bregolina Sai che Mega Idea E anche Passi Prima mi odiava Non è vero Sì invece Ma no Quando Ma non è vero Mi ti ha fatto della bulla Mi bullizzare Mi amamo Cosa Mi bullizzare Un pochino Lo sè Sono una bulla Mi bullizzare Un pochino Ma è una roba normale Ma dove sta Tu sei più bullo di me Ma non è vero Eh sì È vero Eh Eh Sei un bullo Mega Bullizziamo Mega Che fa il bullo Ragazzi È una cosa da pop Non può capire Anna non capisci No Io te la faremo Faccio schifo a disegnare Ma non vi preoccupate ragazzi Le fan art Non sono per forza Necessarie Fate in gaccia life Quelli con la musica E pica sotto No ma delle fan art Eh ma se la gente Non lo sa disegnare Eh ma come anche brutte Ma se sono brutte Sono brutte Ma sono belle anche Quelli di gaccia life Mega 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 Voglio chiudere Mega Basta Mega Ma qualcosa Mega mi ha partorita Ciao Mega mi picchia Aspetta che gli tiro Una panina Potta ai denti Un patore in faccia Mega mi picchia Un patore Madonna Madonna Che carini Che carini si vogliono bere Quante belle Mega mi picchia Madonna L'amore tra la famiglia E la roba assurda Sono una madre molto responsabile Guarda come si inseguono Dea urla di sofferenza Ah no 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 Dea no Mamma mia che brutta cosa Che brutta cosa scherzavo Mamma mia Uno spoiler della serie SCP episode 12 Allora hanno chiesto uno spoiler per l'episodio di SCP di domani Glielo do? Glielo do io? No 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 aspetta aspetta Magari moderiamoci un pochino e diciamo De chi non vuole sentire Metterò questo blocco Ok mutate la live quando tolgo il blocco Significa che ho finito Allora siete pronti? Allora Eh ma ci due aspetta Nell'episodio SCP di domani Scopriremo la storia di Dea Eh no mi chiede Scopriremo la storia di Dea Scoprendo la storia di Dea Ok Per scoprire la storia di Dea Litigaremo io e Dea Chissà perché litigaremo Boh Vero Dea? E risassi Non ti dice Perché sei una pagliaccia Perfetto l'abbiamo tolto Aia Aia Perché mi fichi? Non ho fatto niente Gli avete accutato sai Origen Non lo so Mi sono fatto male Ma come? Come hai fatto? No 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 aspetta Andiamo a dare bacino a Dan Andiamo a dare bacino a Dan Sì Io non voglio aggiungere No piccolino Io non voglio qua Baccino sul bacino Che cazzo No 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 Mi dissocio Mi dissocio Sono all'affettiva Io me ne vado Mi fate tutti schifo Ma scusi Mi regate piacciono i tavoli Ti chiedono? Dipende che tipo di tavolo Aia che tavoli I tavoli da surf I tavoli da surf Eh gli piaceva Gli piace Gli piaccio io Eh Aia che tavoli da surf Aia che tavoli ti chiede un saluto Aia che ti chiedono di salutare spinoraptor No non è vero Chi ti ha chiesto? Sì spino Spino me l'ha chiesto Ma non è vero Non sono mica leggendo io Sono scema? Ah voglio un ce l'ho da Sì niente Sono scema Dea renditi utile Dea renditi utile Ecco adesso Sto facendo la casa Mi chiesto di prenderti la roccia Per fare la casa Ora mi porti i piccoli Mamma mia Senta pure una palla al piede Tutti quanti Bene amici Facciamo una roba Ognuno si La mia pal Oh ma che cosa Caruso ti manca pallina? Sì Va al solito Vabbè ti farò per lei Per la partita Va al solito Come? Mi sono 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 Cosa è successo? Dimmi tutto Gli ho dato un bacino Gli ho dato un bacino Gli ho dato un bacino Cos'è? Perché? Geloso io No Verità che tu vieni Oh drama Drama Non è vero Non sono merita Vai a fare un proto Sei arrivato in ritardo Fare un proto Fare un proto Io domani vado in getta Ferrara Che bello Ci sono stata chi una volta In getta Ferrara Per due giorni Bellissimo No Dea Non te lo do il bacino Dea Ferrara Non te lo do Mi ricorda Mi ricorda Qualcosa Ferrara Che cos'è? Cos'è? Ok sono vicino Io ho ferrata Ah È Davide Giovanni Sì Sì Foggia Hai detto Foggia? Davide Giovanni Davide Giovanni Ciao Rupatelo Ziti Ziti tutti Rupate Davide Giovanni Ma io voglio uccidere Ma sei scema Io voglio i cammelli Ma certo Dark Dovete farci delle domande Rando Noi ci annoiamo qua Mega di quanto ti annoi Mi annoio Davide guardami in faccia Guardami in faccia Ehi Chi ha Hai Ecco Fatti sputtare dei lama È un pazzo mega Vai agitare le in barca? Eh sì Bellissimo Davide Giovanni Davide si fa tasca E super simpatica Oh goshi Goshi Svegli Tieni fuori così No continuate Perché Ho bisogno di affetto Ma sbettila Che noi te lo diamo Ci sputi addosso Dai Su Ah ragazzi 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 Mamma mia Oggi ho fatto una pazzia Vi racconto Vi racconto Oggi Ok Di solito io ho i cappelli lunghi Io ho i cappelli Devo parlare Io i cappelli Sì sì Poi ti vado Io i cappelli Davvero tanto lunghi Cioè nel senso Che mi arrivano Letteralmente Fino alla fine Della schiena Talmente c'erano lunghi Perché mi crescono Molto in prenda Oggi Ho fatto una pazzia Ragazzi Oggi Mi sono tagliata I capelli corti Innanzitutto Fino alle spalle E mi sono fatta La frangetta Mamma mia Sì 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 E sono anche Una figa strale Assolutamente Strabolla E si ammette E si ammette Vabbè ma quello Lo eri anche prima Ciao Ti ho detto che passavo Per un saluto Guarda ti salutano Ai capelli rossi Allora Sì Solitamente io Ho i capelli rossi Esattamente Infatti se quella che è arrivata In ritardo in live Non si è ancora pentita Comunque domanda La colpa di Tando Vedi Cosa? Colpa di Tando Così Perché? Prendi molti blocchi di questi Così a caso Prendi molti blocchi di questi Trenta non ero con lui Che bro Poi parliamo di te Allora I capelli rossi Diamo la colpa a palle Che belli i capelli rossi C'è lì anche Una mia compagna Eh sì Eh sì Belli belli i capelli rossi Qualcuno aveva fatto Una domanda No Avevano chiesto Se riporteremo la live Dove cerchiamo i draghi Eh oddio Allora Per il momento Allora per il momento No vi spiego anche il perché Praticamente Secondo me è molto più divertente Fare le live Tutte quanti in gruppo Poi soprattutto quel Quel mondo ci dava problemi Nel senso che In molti non riuscivano ad entrare Bla 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 Invece Qua Dea Mega per un periodo Quindi niente Mega cosa stai facendo? Sei un pazzo? In giro In giro In giro Vabbè guardiamo Mega girare Intanto che Oddio Simone Spoopy Sto per farlo un ultimo Scusate Spoopy Ciao Spoopy Mamma mia che bello Spoopy ragazzi Eh non c'è più David e Giovanni Aspetta Farei un comic Aspetta aspetta Perciò l'ho chiesto In futuro fare un comics Un comics Nel senso un fumetto O se andremo ad un Come Nel senso andremo ad un Un evento Una fiera Una fiera Esatto Spoileriamo? Sì lo so Lo so Darkina Il nostro amico Simone Si chiama Sbuby Lo chiamo Sbuby 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 Al Comic Con Allora al Comic Con Assolutamente sì Anzi pensavo di Andare al Milan Games Week Insieme a Dea Non è che pensavi Io e Infi Avremo l'appartamento Quindi ci saremo Tutti e tre i giorni Eh sì Eh sì Ma avete contato solo voi Dove spiego Senti Tu ancora non hai deciso Devi darci i fondi L'appartamento Sì no certo Lo so Però Però Sborsare Io devo pagare 150 euro Anche se sono Troppo Anche se sono un po' indecisa Perché Significa che dovrei fare Face reveal Dimmi tutto piccolo Ma tu Sì La barca Come la vedi Ferma o che si muove Perché io la vedo che si muove La vedo ferma io Io la vedo che si muove Si muove Perché c'è un attimo Sta arremando Papà No Oh che carina Darkina Va bene va bene Poi massimo appunto Ci vedremo anche noi Al Milan Games Week Tipo Mi intrufo nello stand di Kett In qualche modo Ma ovvio Ma certo Andiamo tutti da Kett Andiamo tutti da Kett Eh io di sicuro No Ma c'è un bambino Tu hai da nome No no Io vado in giro A trovare altri peluche Quello Mi devi dare Il più peluche Il mio obiettivo È trovare i cosplayer Ma c'è un Davide Giovanni Mi crede Mi crede che non avevi visto Un cosplayer dal vivo io E tipo sarebbe un'emozione Io Vabbè ma dal vivo Ma io farò la cosplay Di Carlotta Stella del mattino Carlotta Stella del mattino Regà io vengo cosplayata da Lemi Così mi riconoscete Vedete una tipa con i capelli rossi Vesita di verde Con la corocina di fiori in testa Bianca E se ce lo fai con i colletti aperto No Ah e vabbè ma mi metto anche qualcosa sotto Cioè non rimango inutinante Ok vabbè Assolutamente Ah Ah Se non ti guardano le Eh Vabbè Vabbè Non è illegale Cioè facciamo il raduno Facciamo un raduno Facciamo un raduno Un raduno Va bene A me va bene Voglio fare un raduno ragazzi Al Milan Games Week Vi va? Io Io provo Aiuto Aiuto Molto benissimo Dove ci siamo conosciuti ragazzi Ogni anno Ma di che anno? Quest'anno Quest'anno novembre 22 Se non mi sbaglio Giusto? No dipende Dipende un po' Oh vi immaginate che sono i video Che sono il giorno del mio compleanno? No ma poi Di sicuro veniamo il sabato Ma io faccio il tuo Del nostro compleanno Ecco è capito Oh Cos? Compigliati il 17 novembre anche tu? Te l'avevo già detto Davvero? Sì Sì Oh mio Dio Ragazzi Ma io e Anna Siamo gemellini Ma fatti Fatti Arco baleno Arco baleno Bellissimo Che magia Che magia Magia del Natale Cos'è? Però sì Te l'avevo già detto Scusa Sì sì Te l'aveva detto Solo fai me lo dici prima Che cosa? Aiuto Di cosa stai parlando? Alla prossima L'esame quindi? Ah Se facciamo il raduno Certo Ovviamente se facciamo il raduno Ve lo diciamo Siete matti Ovvio che me lo diciamo Ovvio Ovvio Vieni anche tu Venga Tanto dobbiamo farci Giare Perché Mega non l'abbiamo mai incontrato Nella realtà Quindi se ne viene E non mi vuole vedere Perché dice che sono brutta Mega Se viene al Gamesweek Mi devi accompagnare Dai Accompagnare Non è che se viene al Gamesweek Mega devi venire Grazie Raffi Grazie mille Mamma via Quanti complimenti Mi sta allargando tantissimo Ma che cosa? Il server Vorreste perché siamo lontani? Ma come è colpa mia? Sì è molto probabile Ciao megotto Server è tu Megotto Megotto No io non li voglio gli abbracci Dovete stare lontani Io li voglio i vostri abbracci Basta mamma mia Tanto te li diamo noi abbracci No io non li voglio Guarda che nel caso Oh sono serio Io devo salire se devo andare Guarda come si propongono Infi per portarti al video Al Gamesweek Come ti senti? Apprezzato Si sono proposti Di portarti loro Al 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 Gamesweek Ma con chi? Mega? Mega? Ma no no Perché tipo hai detto Ah mi devi portare tu E appunto un fan Ha detto Ah ma ti ci porto io No Non capisci le cose Mamma mia Non lo sono capendo Mi è venuto in live Leonardo Mamma mia che bello Vedere sempre persone nuove Che si uniscono Mi fa un po' male la testa ragazzi Vi vado a intrattenere un po' il pubblico Mentre io evito di svenire Dove stai? Aspetta dove stai? Qua Guarda Guarda Ok Tanto bevo Benissimo Allora Mega Allora Ti faccio uno scambio Sì non mi rispondi Hai un figito no io Ci sono io vai Ok Allora ti do uno scambio Io ti do un diamante Mi diamo un'altra palla Un'altra palla Oddio aspetta 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 Oddio Ce l'ho una palla Cioè Ma da me Dammi una palla Eccolo Scusate che c'ho la pressione C'ho la pressione E basta parlare così tanto E ogni tanto mi sballonzola E divento scema Allora Ce l'hai una palla Hai potuto ascoltare la canzone Infi Quale canzone? Quale canzone? Quale canzone? Che c'è piccolino? Che succede? Non muoio eh Ce l'hai una palla? Ce l'hai una palla? Ce l'hai una palla? Una palla Eeeh Oh mio Dio Questa è una palla Questa è una palla C'è mega che è pronto a rubare E' programma di oggi E' quello che ruba Ciao Riky Ciao E' allora il programma di poi E' un'estate Non è che C'è che stavate dietro Mentre scavavamo in miniera Per prendere i diamanti Tu Io non c'è Prima cosa Stavamo scappando dal world Mega 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 Guardami Guardami Guarda come sono vestito Ti sembra uno che ruba diamanti Sì A voglia A voglia Ma un coso in ferro Basta Un piccolo napoletano E' una roba assurda eh Ok io usufruisco Della vostra Cos'hai con le napoletani eh Su Cadea dove sei Voi capicchiati Tutto Tutto Dove sei Usufruisco Della solo Della crap Ti voglio bene Dea Io non neanche Non ti voglio In ferro Sono lì Il piccone Che mi ha regalato Ma quanto Ti voglio bene Sei bellissima Cavolo Sei bellissima Madonna Per attimo io stare bene Basta Il mio affetto è finito Basta Vedete come fa Vedete Non ci dà affetto Eh fratella Io sono una donna indipendente Allora Arraduro Io abbraccio tutti L'abbracciamo in gruppo No La prendiamoci Mettiamo intorno E te l'abbracciamo Lasciami stare Sono fidanzato Sono fidanzato L'allegria L'allegria Macarena Balla Tocca Allegri Non ti voglio bene Non ti voglio bene Gli spucco Che succede No hai la testa nuda Infi La testa nuda Brutto No È pelato ragazzi È pelato È un'assurdo Sai il motto Ti chiedono qual è il motto Di una palla Ok va bene Ma per essere Qual è il motto Di una palla Infi Che è successo Buongiorno Benvenuti a questo Il motto Della palla Scavare In una palla Sei un matto Perché mi hai Mandato un caccia Hanno mandato un caccia Oddio Adesso viene il caccia Vedrai scavare Ma se Ma ragazzi Vi ha tipato quasi Illegalmente Sì 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 Una poluzione Ragazzi Ragazzi Un chat Una polizione per passi Una polizione per passi Ragazzi Sì Le ho avanti a scavo Oh grazie Darko Caccarea Aspetta Aspetta voglio vederla Che io Aspetta Bellissimo Oddio Per bellissimo Che ha fatto Davvero Mi state mettendo live Adesso lo voglio vedere Che io Aspetta Bello bello Carino Bello bello Oddio Mi piace Mi piace Mi piace Aspetta Mi sto casando Mi sto casando Ah che cosa Ma è un oshi Quella Non mi piace Che ci sia oshi Potevo Potevo Pocchiare Potevo Pocchiare Massi Ah prima Ah ma no Ma non ti preoccupare Darkina Non ti preoccupare Bellissimo Bellissimo E' bellissimo E' bellissimo Madonna mi piango Aspetta Bello Fate Fateli Fateli più spesso Io mi metto a piangere Sono bellissimi E' bellissimo E' bellissimo Hai rapinato il momento Di Quale era il mondo Perché questi alberi Hanno questa forma Ma basta Mi sono staccata Di vedere le chiappette Di massi Che scava Perché questi alberi Hanno questa forma Molto Discutibile No ascoltate Ascoltate Ero di un artista Ascoltate No ascoltate E' un Come si chiama Il coso del fuoco Non il focolaio Dai La fiamma Che cos'è No Il candelabro È un candelabro Ah già Il candelabro Certo Sono alberi nostalgici Sinox No No Comunque Chi l'ha creata Veramente Ha avuto Molta immaginazione Bravissima Ragazzoni Comunque Che succede Ragazzoni Vi saluto a tutti Fragolino Che deve andare Non si sente Ciao 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 Lemi per te Ascipano Addirittura Assolutamente Ma it's real Oh no Oh no Spoiler No piccolina Darkina Non te ne andare Poi piango Belli gaccia Belli belli Fanne altri Belli mi piace Sono molto belli Mi piacciono un sacco I gaccia Dove ci siamo noi Mi piace un sacco Io sono rumeno Lemi Esci forte Draguzza Mamma mia Non lo traduco Perché sono Allora La mia lacca La mia lacca Dell'essere Una rumena È che io capisco Tutto quanto Ma non riesco A parlarlo Ne parliamo di me Che sono filippino È un filippone Filippo Filippo Viene da Genitore Di nome Filippo Ciao Filippo Cioè È il papà Filippo E tu sei un filippino È sì Ovvio È perché è un filippo piccolino Un filippo piccolino Un piccolino Un piccolino Non mangio male per te È troppo canon Ormai Sì Ormai Valle idee Sono canoniche Mamma mia Non è messi molto carina Sì sì Ripeto Sì sì Lo so Lo so Lo so Lo so Che so la traduzione Infatti Hai detto che sono carina Sono carina Venga Ha detto che sono carina Perché quando lo dico io Non fai così Perché tu Perché tu sei Massi Massi Dove stai Massi Sto scavando la pietra per via Perché Non fare questi versi Ma si Ma mi fa male Ma Che poi vengono Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Abbiamo il buco Della punizione Ragazzi L'avete visto Come Come Mi sentite Le posizioni Dove Il buco Della punizione In fondo Vai La punizione Anno Vai Tu scendi Dalle Spida Cacciare L'ho giotto L'ho fatto Vai a fare una visita anche tu ai bambini Dai Perché dovrei andare io Se tu o la madre Eh non puoi tenere compagni ai tuoi bimbi Vai a tenere compagni ai tuoi bimbi No? Perfetto Ciao Mi ha tradito Ah che cavolo Sono strano Cosa? Non ho capito Ho un bagliato persona Scusa Non ho capito Mi hai tolto l'acqua Mi hai tolto l'acqua Mi hai tolto l'acqua Sotto i piedi No Che persona orribile Che sei in fipalle In fipalle In fipalle È colpa mia Dai Eh ragazzi Ragazzi Mi leti Ok Mi leti Le mi In fipalle In fipalle E vai giù per il buco Giù per il tubo Giù per il tubo Ma È più corto questo Ma lo soffichiamo così Aspetta lo c'ho piccone Si c'era un piccone Raga mettete un blocco più in basso l'acqua No 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 perché Cosa Cosa volete Non può salire È bellissimo No Che cosa è successo Cosa mi sono perso Il nostro figlio È proprio È un scemo Dici È ma è nero No Scherzo Mi voglio straver Mi voglio straver Ti voglio straver Vieni qua Vieni qua Guardami Guardami Eh non si guarda No Già che eravamo Vai dentro Vai dentro Vai dentro Non riesco Perfetto No Bellissimo Vuoi fare una costruzione Di un labrador nero Bellissimo Ragazzi Ma Ma è il muro degli iscritti Ma è il muro degli iscritti Ma facciamolo qua Ma non c'è il muro degli iscritti C'è il muro degli iscritti Ma lo facciamo È vero Ragazzi Facciamo il libro degli iscritti Ma io non so niente Di tutto questo Mi piace Mi piace come idea Mi piace come idea Mi piace Mi piace come idea Facciamo il libro degli iscritti E ogni volta Ogni volta Sceglieremo Un iscritto a casissimo Per le prossime live Che ne pensate Un iscritto a casissimo Che si può unire con noi Su DS per 5 minuti Mi piace come idea Solo 5 minuti Sì E poi c'è stato T'abbiamo La live Ce l'ho rovino Ho paura Che ne pensate Mi piace come idea ragazzi Facciamo il libro degli iscritti Dove Se voi vi iscrivete Vi mettiamo appunto Nel Nel libro A sto punto Li numeri Questi almeno facciamo Con un generatore random Il numero Va bene Va bene Mi piace come idea Ah sì Adesso mi sono già Una tua fan Oh grazie mille Piccola Cioè piccola Sei più grande Però hai capito È più grande di me Vita su minecraft rollplay Assolutamente sì Non ce l'ho ancora in programma Ecco il mio fratello che urla Scusate Non ce l'ho in programma Come serie da fare Ma non è per niente Una brutta idea Quindi chissà Chissà C'era uno di inchiostro e una piuma Piuma Ok Ti serve E ma qua urlò in casa mia Mentre faccio una live Oh 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 Caspita Ma ce l'ho visto eh Ve lo giuro su mia mamma Ce l'avevo prima L'ha buttato per terra Ah sì Ce l'avevo prima L'ha buttato per terra Per mangiare nella realtà Ah nella realtà Pazzoide Ok Ma ragazzi È brutta la realtà Lo so Ma ce l'abbiamo uno di inchiostro? No Lo sto andando a cercare Stupido C'è uno stupido Contarsi Sì Faremo un videoblog Assolutamente sì Devo solito giusto Trovare la confidenza Appunto per uscire la faccia Ecco Appena Ma non perché sono brutta Ma perché ripeto È scomodo Ogni volta Devo essere preparata Pronto perché Nella maggior parte dei video D'ora in poi Dovrò avere la webcam Ecco quindi Devo essere bella preparata Boh te l'ho detto Secondo me non è Ci vedi l'inchiostro Nell'inventario Te l'ho buttato Adosso Un'inchiostro Amici Un'inchiostro Ecco Ciuccio 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 Benissimo Ciuccio 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 Allora Eh ma mio fratello Urla Eh Ti ho dato tutto Oh Buttalo Mi ha la cavolo di pelle Mi manca No Ti ho dato il libro Ti ho dato il libro Ti ho dato il libro È vero Grazie mille Ok Ti ho dato anche la piuma Eh ma che palli No Mi sto arrabbiando Potrei Potrei andare a Ecco qua Bellissimo Amici Amici Abbiamo il libro degli iscritti Davide Giovanni Ditto dello zombie No Come davide Giovanni Va bene Così Così dopo Lo trasformiamo E ci facciamo un ending No davide Giovanni No Era Però Brucia Se è stata Dentro la barca Così 9 Sì Sì Aspetta 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 Ti ha detto Un pezzo di armatura Intanto Eh Sennò Si può fare Tipo Allora La votazione Perché è sentata Una youtuber Eh ma urlano In casa mia Perché mio fratello Fa il casinista Ah mio dio Io odio I bambini Ragazzi Quando è stand Beh vedi quelli Piccoli Mi raccomando Ma sono Stati Ho paura Che fraintendete Quelli piccolini Sono davvero Una pesti Una pesti Ho detto Mega Mi hanno fatto Il coso Sotto Senza sprecare Una pesti No scusa Marchino Ciao piccolina Della mamma Mamma mia Oltre alfano Scarico Aiuto Oh Che cos'è Sto Non farci domande In cipolle In carica Ancora 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 Usulino Il sacrificio Rompi i blocchi Quindi Eh si raffa Eh ma ci sta Cesta Cesta Purtroppo Non mi sono preparato Ieri Di eclatante Quindi Beh ci vuole Sovra il tetto Ancora Sovra il tetto Madonna Ma quanto urlano Però è Oh mio di miei litigano Aspetta Advece mi muto Che vado a sistemare Intrattente al pubblico Allora 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 Non è vero Oh Mettiva 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 Dai quindi Quindi Libro Dei Gli iscritti Chiamiamolo Ma cos'è il libro? Cos'è? L'ho appena detto Sei un pagliaccetto? Sì Libro Degli Iscritti Non fermarlo Che se no Non puoi scriverci Sì sì Ogni Volt Aspetta Ogni live Sceglieremo Un iscritto Da Questa lista Che potrà Partecipare Per 5 minuti 10 15 Avete capito? Insomma Il tempismo è quello Insomma Per un po' Di tempo Alla live Con noi Magico 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 Cominciamo a scrivervi Amici Ho scegliete Da ora Il fan Oddio Penso di no Perché l'abbiamo Fatto adesso Sul momento Vogliamo scegliere Adesso Il fan I fan? Sì, qualcuno da giù da adesso Vi direi di nuovo No, come prima Come prima mettiamo i fan Quelli più duraturi Quindi Dennis Fragolina Dark Chi altro c'è di duraturi? 2C che purtroppo Non c'è più in live Ma chi? Facciamo una roba, metto solamente quelli che sono in live adesso Va bene E più e più in alto, non c'è quello che sto messo in posizione Oh Franci Ah mia, mamma mia Poi Chi altro, chi altro A Raffa voleva essere giusto Raffa Eh, adesso 2,5 Sono scema Sono scema, amici Vai chi è che mi sta spinando Sei diversamente Sono diversamente intelligente Dice No, siamo un po' tutti Lo siamo un po' tutti Ora gli contro le mie A chi? Allora, vieni qua davanti Antonella Come ti scrivo, Antonella? Ah, ti scrivo Antonella Perché almeno ti presenti così in live Quindi ci sta Ecco Nel senso So come riconoscerti Sai Antonella Chi altro, chi altro vuole farsi aggiungere? Sinox Ovviamente Il nostro migliore amico Sinox Sinox Bellissimo Bellissimo Chi è che urla? Secondo te 1200 iscritti In 4 mesi Tanto Chi è che urla? Mutate Mutate Chi sta urlando? È un bambino Eh sì Penso Penso Dea Dea? Oh, aspetta L'ho muto io Ok, grazie mille Ah, è tornata proprio mentre urlava Ok Ah, mia Mamma mia Io ho le mie Va bene Mutate Mutate Alexio Mamma mia Alexio è il nostro amico Non è il nostro favore Però Ci sta, ci sta Dai, ci sta, ci sta, ci sta Come osi? Ci sta, ci sta, ci sta Ah, ah Ho preso i pizzoccheri Pizzoccheri? Mi ho messo due volte No, ti ho messo È vero, ti ho messo due volte Sono scema Raga, c'è Spiegateli In più cosa sono i pizzoccheri Ma perché Allora questo C'è Raffa e c'è Raffi E c'è il mio cane anche che appaia E tu anche il mio cane Aaron Ah, così Sì Animation Ciao Animation Vuoi farti aggiungere al libro degli iscritti? Animation Praticamente animation Ti spiego per quelli che sono appena entrati in live Ogni inizio live Io sceglierò uno di voi Che potrà entrare per 5 minuti all'inizio della live 5 minuti, 10 minuti, 15 Insomma L'arco di tempo è quello Non di più perché poi appunto Magari si crea anche un po' di disagio dopo un po', ecco Ah, mi hai messo in livello Ciao, lei Io sono il fantass... Fanzamicone speciale Non riesco a leggere, sono scema Vabbè Questo qua è il libro degli iscritti per adesso Vi piace? Fatto Poi i prossimi si aggiungono Insomma Ecco qua Bellissimo Mamma mia Stupendo, stupendo, stupendo E ce l'hai messo Marchino? È Marchino È nostro figlio Marchino può entrare quando vuole Appunto Vabbè Vabbè dai Ce lo metto per Per completezza 11 Marchino Marchino Bello Marchino Bello Marchino E Eros Ciao Vuoi farti aggiungere al libro degli iscritti? Eros Mamma mia È la seconda volta che lo riprendo sto libro 12 Mettiamo Eros Ma tienilo in mano Fai prima Vabbè Ma volevo appoggiarlo Io Eh lo voglio appoggiare Eh Eh Mega Mega Poi che lo che tu fico Me lo fai appoggiare così Grazie Bellissimo Bellissimo Ok Praticamente Eros Te lo spiego Ogni volta che C'è una live Sceglieremo Dalla lista Con un numero casuale Totalmente casuale Appunto Se Appunto Se ci sta La persona In live Ecco E Appunto Sceglieremo un numero casuale E Quella persona potrà unirsi a noi In live Lei mi aiuto Lei mi aiuto Dimmi tutto E Potrei E quella persona che sceglieremo Potrà entrare in live con noi In vocale A giocare con noi A giocare non penso Perché significa che dovrei darvi Tutto quanto l'IP Eccetera Quindi Probabilmente è meglio di no E mio fratello urla di nuovo Vabbè Possiamo andare Tipo Su altri server No Ma lì ma lì ma non ha senso Cioè lì Madonna Riccardo Sentilo Aspetta Si sento Una piccola bestia Intrattenete il pubblico Welcome I'm gonna make a wish Siamo dei bambini in casa Siaio che l'Emi Massi Massi dove sei Dove sei Massi Massi Casa mia Brigati Vieni qua Dove qua Qua da l'Emi Qua Stavo facendo Stavo facendo Ok Qua Il duetto Vieni Tipati Ok Sei pronto Aspetta 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 Ok Ok Aspetta Aspetta Io faccio Logs Va bene Vai Se inizia Io sono pronto Aspetta Mi vergogno Però Vabbè Pazienza Sono guai Mio caro Alastor Ti penterai Lo vedrai Tutto è nuovo Oramai Puoi dire addio Al vecchio Status quo Ora se vai No Già Tipo Mezzo fa Aspetta Aspetta Ecco Non è meglio Ciao Dea Ciao Guarda La tv La tv La prima Notizia E niente Basta È finito Quindi Iniziato La parte Parlata Ma eravamo pronti Ma eravate con il coso Ma no Ma siete degli scemi Eravamo pronti Eravamo pronti Eravamo pronti Sì E dovevamo fare il spettacolo Che faccio Ciao Samu Ciao Samu Adesso Ma fai finire lo spettacolino Va bene Aspetta Mettiamo un attimo Samu nel libro degli iscritti Praticamente Samu Ciao Dennis Anche a te Dennis Quando Raffa Aspetta Z Sì Dennis Tu muta A prescindere Perché Non mutare Inizialmente Rimuna sui messaggi No Certo Poi se non capiscono Ho sentito Ho sentito Il cane di Massi Con il suono È stato bellissimo Allora 13 Perché abbiamo tutti i casini Perché il mio microfono Mi muta Dicevo comunque Samu Ti metto Praticamente Vi spiego Ogni live Scegliere un numero Totalmente casuale E quel numero Potrà entrare in live Con noi Per appunto 5-10 minuti Ecco Salvatore Benvenuti salvatore Niente Abbiamo creato questo libro Abbiamo dato una votazione Alle case Insomma Abbiamo creato questo libro Che è il libro dei fan Dove Ogni appunto live Sceglieremo un numero Totalmente casuale Da questo libro E Quella persona Potrà entrare in live Con noi Per appunto 10 minuti Insomma Mi piace come idea? Ciao Ale Benvenuti in live E mi fratello Continua ad urlare Gli appena chiesto Di non farlo Mio dio Ma ho appena letto Grazie Cosa hai letto? Niente Niente Quando stiamo facendo Il duetto Io e Massi Che tu hai Interrotto Scusa Adesso Vai Guardiamo Dai Pronti Pronti Mi guardo Per davvero Vai Vai Facciamo Facciamo un palco Scemi Aspetta Guarda Non si può tenere La base musicale Poi ci danno C'è la vita Giovanni Proprio Giovanni Bellissimo Ma tu per te Ma perché Ma perché Perché un bambino Ma perché Un bambino piccolo Ragazzi E tirate Perché un bambino piccolo A sei anni Quindi burla Perché è matto Cioè Aspettate un attimo E scusate Scusate Ciao Bene Ti venuti in live Ragazzi Se volete Essere raggiunti Al libro Degli iscritti Innanzitutto Assicuratevi Di essere iscritti Mi raccomando Controllo E appunto Se siete iscritti Ditemelo che Vi aggiungo Nel libro Delle Delle Sì Ah Comunque Sei nel libro Degli iscritti Samu Fa niente Guardate Pesce delle fragole Sono molto buone Ok Comunque Adesso Vi metterò Tutti quanti Voi iscritti Appunto Nel libro Degli iscritti E La prossima live Nelle prossime live Sceglierò Uno di voi Tra tutti questi A casissimo Che potrà Entrare in live Con noi Per appunto Dieci minuti Ecco Quindi ti metto Anche a te Pesa dipende Sì sei un iscritto Quindi vabbè Che numero c'è di là Eccomi sono tornato Nella live appunto Chiederò Tipo Ah ma Volete entrare Cosa Iscritto Bravissimo Adesso ti aggiungo Intanto mettiamo Darius Che bel nome Darius Mi ricorda un personaggio De League of Legends Ragazzi ma le volete Delle live Di League of Legends Mamma League of Legends Eh sì Dipende da come reagite voi Ma quanto tempo devi avere la voce modificata Eh niente si è fissato Il problema Massimo Facciamo un palco Allora Il problema è che ci stanno delle parolacce dentro Eh Storpiata Storpiata Esatto Storpiata Tipo Banana 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 La cacchetta del passato La cacchetta del passato La cacchetta del passato La cacchetta del passato Perfetto Ok Guarda che bel palco Dai bellissimo Io Non c'ho questi blocchi Fai a te Fai a te Togliti dalle palline Allora Eh va bene Ok Eh va bene Non possiamo sederci davvero Guardare e basta Ma cosa siete La madonna Ok Allora È la madonna E' un la madonna Chiamato Mi piace la curva Siete scemi Ma chi ha cambiato Chi ha messo questi blocchi qua Ma Si sei una Ce l'ho Ti Ce l'ho 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 Siete iscritto Ma Siete iscritto Il best fan Nell'SCB Aiuto madonna Mi dà un urto Sentirti parlare così Diego Benazzi Ciao Diego Non ti preoccupare Aspetta Diego va aggiunto Al libro degli iscrivaci Una roba Me lo tengo nell'inventario Ma Così che non faccio Avanti e indietro Dicono Allora Stiamo per assistere A uno spettacolino Di Di Anna e Massi Che cantano Una canzone Di Hans Di Notella Intanto Diego Diego Ce l'ho Che vi spiego Praticamente Avevo creato Il libro degli iscritti Metteremo tutti I nomi degli iscritti Qua E Ogni live Inviteremo Uno di voi A stare in vocale Con noi Tu ce l'ho Sei più Un nostro amico Se entra anche adesso Hai capito Non mi cambia niente Però hai capito E l'altro è Diego Benazzi Diego Ora sono seduto Benazzi Bellissimo Oh mio tio In fi seduto Allora Siete pronti I fieli Poi la terra Poi la terra Venga Vieni andarsi Sarò spettacolo Dei tuoi figli Perfetto Ok Dall'inizio Siete pronti Ah si C'è sì che c'è mamma dea Guarda Mamma dea No sono qui Sono qui Sto mangiando Mamma dea non c'è oggi Eh mamma dea non c'è oggi Allora siamo pronti Guarda ci sono anche i lama A guardare Ok siete pronti Muovetevi fate gli scemi Non lo so Qualcosa Ok Siete pronti Stanno per cantare Una canzone di Aspinotel Vi piace Aspinotel chat Vi piace Vi piace Scrivete un Sium In chat Se vi piace Ripetere la chat Di Sium No spammati Sium Due Tre vanno bene Sium Scrivete Sium 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 Sì Bellissimo Non l'ho mai guardato Ci sta Ci sta Non vi preoccupate Con i cosi Io so che l'immagine Lo sei tu E l'ho visto Che sono io Bellissimo Aspetta Siamo bellissimo Io devo mandare lì Ciao Darius Grazie di essere stato in live No Mark 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 No No Che cosa Sium 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 È vero Sfiori Piove Il sole C'è L'arcobaleno È qui per me Arcobaleno Ok Perfetto Pronti Mi guardo Eh Ma dagli inizio Sì Ovvio Sì Io faccio La parte L'altra Ok Pronti 3 2 1 Vai Fai inizio Della parte Cantata Però Perché Sennò è un casino Ok Ma fai quel Che aspetta Che vuoi Dai Dai Sì Pronti Vai Sono Guai Mio Caro Alastor Ti Penterai Lo Vedrai Tutto È nuovo Oramai Puoi dire Addio Al vecchio Status Qua Ora Sì Vai Mamma mia La prima notizia riguarda un relitto del passato che è stato visto a zompetare Incitato Quindi in termine della radio è tornato cosa vorrà quel dannato mi chiedo che cosa avrà in mente fortunatamente ho buone notizie Continua 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 Toccata Lo so che mi sono mancato e un po' di stilo portato ci voleva proprio un broadcast Dannati Gioide No Non ascoltatelo Non c'è più morioso e mediocre video podcast Ah ma dai Mox è sicuro Mox è sicuro Non piace a nessuno Sbalazzo da una mano all'altra Non funziona niente E' stato un bagnolino Io sono il futuro Lui è la cacchetta del passato Un brodo Ma sei solo un vecchio di cacchetta Con una semina sofferenza Con una semina sofferenza Ma oggi ho un'interferenza Io ti odio Dio Dio Ehm Fisco una fossa perché sì Perché ti odio Addio Beh non che tu abbia perso il segnale Sì eh Ehi Continua Sono indeciso perché ho l'effetto quello cattivo Però Lo sapevo Lo sapevo Vai 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 Lo metto Lo metto Vai 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 Non vorrei che tu si sente male No no figo 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 Vai Lo sapevo E' facile Tocca a me E sarai tu che te ne pentirai Sai perché La risata te la faccio io La risata te la faccio io Lo sapevo E' andato sott'acqua Quanto ci godrà E' pazzi E' bello Bellissimo Davvero bene le risate Sì sì Io studio per farlo Complimentini Complimentini Per i miei due canterini preferiti No Applausi 25 minuti di applausi 22 ore di applausi 22 ore di applausi 22 ore di applausi E mancherebbe Vallo Aspettate Aspettate Applausi E vabbè per ora Per ora tifiamo Val per la sua partita Sì Ma i lami Ma i lami I lami I lami vero I lami Ma i lami I lami I lami de spawn No davvero Vabbè E non Nick Quando uscirà il nostro server In che senso Un server del nostro team E quando Quando Aspetta Allora Avevo intenzione di portare un server dei fan Quindi uno ufficiale proprio Nel senso Un server del nostro team Dove noi siamo staffer Tutto quanto Appena Sbloccheremo gli abbonamenti Così che Voi vi pagate Io pago il server per voi Cattiva E davvero solo per fiducia Raffa davvero Eccomi Eccomi Sono tornato Ciao piccolo Sei stato bravissimo Cioè La cosa Ci sono più volte Che fai Che fai casini Che altro Per quello Magari È normale Che mi fido un po' di meno Ma no Non devi abbonare Cioè ragazzi Non vi dovete abbonare per forza Il server è pubblico appunto A voi miei fan Intendo Che Verrà pagato appunto Ok Ci metto anche del mio ovviamente Però intendo Perciò Verrà tenuto su dagli abbonamenti Ecco Vediamo che ancora 1200 iscritti Quindi sapete Gli abbonamenti Dove vanno I soldini Eh sì sì I soldini Andranno Certo Io riesco a parlare I soldini Degli abbonamenti Andranno tutti quanti Per il server Dove voi appunto Potrete giocare con noi È un server Fireboygamer No vabbè Ma è entrato È entrato in live Il mio twitcher preferito Ciao 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 Un twitcher È un twitcher Un twitcher Un twitcher Un twitcher Quello Wow 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 Vabbè basta Se no sembra un'altra cosa Ma no Varica Cioè non dovete abbonarvi Per forza Cioè state tranquilli Mamma mia Non dovete abbonarvi Per forza Siete di vinicro Non l'avete una pistola Alla punta Dalla tempo Anna si Ma la mia Anna si deve fare l'abbonamento Che ho fatto io Fireboy di si è perso Di si è perso Un'esibizione della madonna Oh mi aspetto Mi aspetto che facciate La clip di quello che è appena successo In live È bello Mi piace Mi piaciuto Mi piaciuto Fateci i video sopra I video gacha Bellissimo Mamma mia Eh i video gacha Ti piace il gacha Sì 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 Eccola qui Ci sono messi gli sparti In due secondi e mezzo No scusa piccolo Scusa piccolo Questo è perché lei ha l'attention span E scusate Sì Ho l'attention span Mazzissima È orribile allo stesso tempo Mi dispiace Ditta dai che è stato bravissima Ho la tua roba assoluta Ancora Non so scusate Infatti me la so E poi ho scritto Ah bravissima È stato bellissimo Mi dispiace piccolo Ho detto dai che è stato bravo Immediatamente Vi vengo a trovare a casa Inciotto eh Vabbè Ditta dai che è stato bravissimo Anche basta Sto bravissimo Vieni qua Si fatti elogiare Ma chi non mi c'è Sono qui Sono qui Stavo Ah ok Ah dei nostri I miei bei canterini E prossima volta facciamo Bravissima Mazzissima A scrivere Ma è Alice forever Alice forever No è Alice forever Allora Allora È stato fantastico L'ho detto Eh Massimo Povero Massimo Massimo Ma no Povero Massimo Massimo È stato bravo Anche Massimo Guardate che è bravo Tanta 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 fiducia Vabbè Con l'amore Sì sì ragazzi Ragazzi Comunque Massimo Lo conosco Dopo ed è migliorato Un sacco Bravissimo Mua Che carino Che carino Ma però è vero Ti posso dire Che è migliorato Anche da quando Lo conosco Eh sì 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 è migliorato Un sacco Massimo Bravissimo Questa qua È la casa mia Di Mega Ok Appunto qua C'è il libro Degli iscritti Chi vuole farci aggiungere Al libro degli iscritti Mi raccomando Me lo dica Così che appunto Nelle prossime live Io sceglierò uno di voi A casissimo Che potrà partecipare Alla live con noi Mi raccomando Ricordatevi di Ecco Ma si quando il nuovo album Anche scopi Scrivete Scrivetevi le canzoni Ma certo Ma certo Spammate il server Di Discord Spammate il server Comunque è nella descrizione Del video Della live Io ragazzi Vi reppo In extra Ciao Discord Benvenuto Faccio Come questo Ragazzi Facciamolo davvero Il palco Dove cantiamo Insieme Al pubblico Allora lo facciamo Casturiamolo No da qua No qua Qua ci faremo Tipo Qua è un murone Grossissimo Lo facciamo lì su Il PDT Se scottare Lo facciamo lì sopra Tipo di Nella montagna Il mondo Si vuole mettere Vieni Vieni Idea Sì sì Dimmi Ti immagini quanto sarebbe bello fare un PDT Sgot talent Con i fans Bello PDT Sgot talent Bellissimo Che idea della madonna Ragazzi Allora Mi è piaciuto un sacco questa idea PDT Sgot talent Cosa significa PDT sta per Popolo della terra Quindi voi amici miei Voi siete il popolo della terra Sgot talent Quindi prima o poi Apriremo il server A voi pubblico E voi potete venire Ad esibire il vostro talento Che ne pensate Il Discord in realtà Viene più senso Il Discord Esatto Faremo un evento su Discord Che sarà il PDT sgot talent Che ne pensate Vi piace come idea Magari Il Discord Sgot talent Sì PDT sgot talent Aspetta 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 Oh Non capisco Sarebbe meglio farlo In video Però quello Eh sì sì Ma lo registravo Lo registravo Fuori piove il sole C'è L'arco balero È qui per me Arco balene È bravo Infine Arco È stato bravissimo Palle bianche Che cadono dal cielo Palle bianche Che cadono dal cielo Assurda Quindi faremo Un piccolo Un piccolo palcoscene Che tutto finiamo Di far vedere le case Questa qua è la casa mia Di mega Che vedete Ci stanno i colori verde E viola Che bello Mega siamo i colori opposti Eh sì È vero Ma dobbiamo Che stiamo Scusate Siamo in live Non lo so Da troppo tempo Secondo me Che succede Da un'ora e 22 Bellissimo Bellissimo Ma Eh no Mi riempite di palle bianche Mamma mia No E fei Orribile Orribile Non lo sfocato Eh Che vedi sfocato È perché appunto Hai la Come si dice Non la La live È incostata Esatto A 360 Comunque Idea ti ho fatto Sì Oddio Ero Ciliciterò Occhi Bello Mi piace 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 Se mi fai piccolo Io ti vado a fare No Un po' ha ragione Ragazzi Facciamo il portale Del leder Venite qua Facciamo il portale Del leder Adesso Arrivo Dove siamo Dove siete Ma non ci entriamo Alessandro Facciamo il poster Qualcuno Facciamo un acerino Immediatamente No No Mi dispiace Che ti sia morto Il cane Però Forse Una statua Non avrà Molto senso Col mio Canale Mi dispiace Che mi hanno Un pochino Mi dispiace Un pochino C'era un pochino Orribile Allora Un pochino Un bocone Un bocone Ragazzi No Ragazzi Il bocchino Il bocchino Dei flauti Eh sì No Aspetta Ho capito adesso Io No no Anche quello Per la tromba Ma è certi Certo Certo No Eh ma altrimenti Ma sentite il tesoro È assimmetrico Altrimenti Mi dobbiamo Vastidia Valle bianche Te lo giuro No davvero Sì Sì Valle bianche Valle bianche Allora devo prendermi di più Eh sì Ma scusa Ma scusa Ma Vabbè Non lo spazio Bellissimo Non lo spazio Interessante Ma è bellissima la casa Ho una porta Guardami La mia porta Eh no Valle bianche Dimmi 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 Palle bianche Palle bianche Palle bianche Le palle bianche E non bisogna essere Se ci piace domani Oh grazie mille Dammi dammi Qualcuno ha fatto un acerino Correte subito a fare un acerino Immediatamente Intanto Massi Vieni subito immediatamente qua Pega Ponte un acerino Welcome home Ah intanto Ok basta Ok basta Toglietemi subito Toglietemi subito Toglietemi subito Allora Acerino passatevelo subito immediatamente Scemo pagliaccio come ti permetti Grazie mille Allora Povero me Allora amici Allora Bisogna essere Ci piace domani Comunque Massi dai Mi sono trattenuto No no Siamo stati tutti Tranquilli Siete pronti Siete pronti Dai bacino a Mega Perché lei è offeso Muah Muah Eh non lo so No 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 perché è triste Mega non essere triste Ecco per tua Ma come è tua Mi ho abbracciato pure No 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 Ma lo spedire un po' No Viene che scherzo Perché ti ho fuso Lo so che cosa ho detto Mi ignori Niente appunto No non ti ignoro Patatino trottolino Mi ho pasticino Agli schiafi Bellissimo Adesso è Adesso incina Agli schiafi Pasticino agli schiafi Siamo pronti Io sono l'unica Con l'armatura Ripeto Comunque tra poco Chiudiamo la live E andiamo a fare Un po' di pedos Mi piace Come idea Sì Poi di pedos Finali magari Yeah Yeah Siete pronti Ah basta Yeah Yeah Sì Bellissimo Yeah È Mega Entravo solo per vedere Entravo solo per vedere Io devo andare a cucinare Vabbè Ah ciao Ciao Massi Ciao Alastro Chiudiamo Sì 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 Dopo che spegniamo la live Ma State Traspeccando Ma Non è carica Ragazzo Sto laggando Ah anche pal Penso che sta creando il tutto Siete C'è Palline 45 Ok Bellissimo Che posso Circondata Della lava Sì Bellissimo Che posto Orribile Fantastico Bellissimo Tabulastico E si folle 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 Ma perché sta vivendo così tanto Ma vabbè Frechelo di poi Fa stai cirocemento eh Sia Guarda a storia Ah Stavo cadevo Stavo cadevo Stavo cadevo Stavo cadevo Eh anche Che succede Ah no Guarda Guarda Dea Guarda quanto è bella Dea Guarda quanto è bella Dea 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 guardami Guarda sei bella Sei bellissimo Dea Dea No No Che è successo Ma perché mi spingete Perché ti voglio bene Ecco Mi uccidi Perché mi voci Perché sei buono Eh sì eh Scusate Scusate Chiedo perdone Mi sono fatto che ti mando su Instagram No poi le guardo Basta che lo sia Un pisellino Sono uno stupidino Dea Dea Mi devi mandare la skinna poi Per il disegno Mi devi mandare la skinna Adesso per colpa tua devo andare a prendere gli altri 4 blocchetti Non me lo ricordiamo Scusate Che cosa Scemotto Adesso per colpa tua Devo andare a prendere gli altri 4 blocchetti Di cosa Che blocchetti Di ossidiano Perché sennò come lo facciamo Leggermente Ma è va bene così Fantasia Fantasia Allora Che ne pensate Vi va di fare qualche bad words Per concludere questa fantastica live Anche perché Anche perché subito appena finisce live Dovevo registrare E io Ti sarei un po' stanchino Anche io sono un po' stanchino in realtà Perché ci siamo svegliati proprio di soprassalto Per fare la live Sì infatti Dai No piccolo No piccolo Io mi sono svegliata apposta per voi Anche io mi sono svegliata apposta per voi Anche se sono arrivata Pagliata Anche se sono arrivata Svegliate il ritardo Sì sì Però l'ho fatto per voi Eh sì registravo Che arrivate il ritardo per noi Eh sì Arrivate il ritardo per noi Lo registravo sempre dalle 9 e mezza in poi Comunque Vi direi Allora Teniamoci Facciamo una roba Teniamoci questi ultimi 10 minuti Per farci domande l'un l'altro Cioè nel senso Voi ci fate le domande Popolo della terra E non rispondiamo Facciamo un i-mai Facciamo un i-mai Eh Se vabbè ora Venite qua Facciamo un i-mai qua sul palco Va bene A me va bene Tanto non ho abbastanza anni di esperienza Per fare così illegali Quindi E come lo vuoi fare Volevo fare un i-mai ragazze Ragazze La prossima volta facciamo le piattaforme per l'i-mai Certo Ma Davide Giovanni Ah no sta qua dentro Allora va bene Va bene Lasciamo il mio Il mio team Allora Spogliamoci Così Spogliamoci Così Dai Capito Allora Infine Quanto spazio è nell'inventario Aspetta Non ci provare Non ci provare Allora Venite qua Venite qua Amici amici da casa Amici da casa Cosa sta facendo qui Quell'infipalle orribile Spogliatevi per cuore No Perché è orribile Dovetevi l'armatura Allora Aspetta Me lo sto togliendo Ciao ragazzi Allora Fateci qualche domandina Facciamo un bel i-mai Hai mai Avuto una cotta per lei Io vi rispondo no Cioè in realtà vi rispondi sì Perché sono una figa assurda E quindi Io stesso Ho una cotta per lei Io dico no La vera domanda è Chi non ha mai avuto una cotta per lei Vabbè Non vogliamo Esageriamo qui Non vogliamo Esageriamo Eh niente Orribile orribile Però ok Dai su su chat Vi ripeteci domande No no Vi ripeteci domande cosa sta facendo Infine Evipalle 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 Ecco Ecco Ti ho fregato il posto Eh no no Che stavo Vai l'ami Uh Vai Oddio Cos'è successo Hai gladato Yeee Allora vediamo No Hai mai Hai mai mangiato una muraglia Avete mai mangiato una muraglia Amici Che io penso Una volta Che io ricordino E che senso Si mega In che senso Io sono caduto dalla moto E ho tirato una facciata Contro il muro Oddio Quella era piano Ma qual era Non ho capito Aveva avuto pregiuditi Su qualcuno Che ora nel tuo team Forse Su di lei Forse Eh ma tu non hai avuto Giudizioni No pregiudizi 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 Perché eri Dell'una park Quelli dell'una park Erano tutti quanti antipatici No Non si dice Su che cosa eravamo Eh Avevo detto Che non nominiamo Quelle cose Quel server E quelle cose Non ho nominato il server Ho detto Eri dell'una park Quindi è brutto Poi Altre domande Altre domande Avevi cavalcato un unicorno Avevo pregiudizio Su Sì Sì Perché povero Cosa ha fatto An poverino Perché non lo conoscevo Ed era piccolo Eh beh sì Vero 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 Piccolino eh Vedi qua Venga che moto hai Ti chiedono Avevo Avevo Si è distrutta eh Eros Ahimè Si è Praticamente Spezzata in due Ed era una Kawasaki ninja Che ho pagato Che abbastanza Ecco hai capito Una Kawasaki ninja Non è mai capito Di cilindrata Era un 125 Avete mai caccato nel puzzo Sì Dipende Quale tipo di puzzo Fuori piove il sole C'è L'arcobale 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 Perfetto Ma è qui con me O è qui per me Scusa E qui con me E qui per me Per me Per me Per me Per me Oh Andiamo Oh Ti chiamo Con me Oh Suka Iscrivito Ecco come si anticipa L'episodio delle 6 Eeeh E' vera Che serve E' vera L'anticipazione Deve fare sta canzone Grazie Raffa Grazie Raffa Apprezzo tanto No è divertente Le consumazioni No ce l'ho perché serve La notte ogni tanto Capito ecco E' content E' content Avevo avuto Dei pappagalli Sì Io ho avuto Dei pappagallini Si chiamavano Kiko e Sara Sono morti Io ho avuto Felicità Hai detto Con una Felicità Io ho avuto Un pappagallo E si chiamava Lei è mia Lei è mia Sì C'erano avuti due Sono morti No 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 Scusa scusa Però l'hai detto Felice E' stato infietante Anche te Anche te ha Dei gagapalli Sì Dei gagapalli Chiamano Spiruli E Lola Spiruli e Lola Hai mai avuto Tu gatto No C'è C'è Adesso C'è Si ne ha uno Si chiama Leo Io ne ho avuti Uno bianco Uno nero Tre virgolette Sono proprio gatti Che ho trovato in strada Già grandi Li ho preso E ho detto Tu sei mio E poi scappavano Il giorno dopo Gli ho voluto Sì Uno grande Uno nero C'è uno Che è uno Che è uno Siete vinto i gattini Siete vinto i gattini Che carini Eh Vuoi tu Sti vinto i gattini Io non ho facette Io non ho facette Io non ho facette Eh io non ho facette Io non ho facette La faccetta Perfetto Perfetto Io ho avuto Sia gatti Avete mai cambiato Che capello Hai avuti Che gatti Hai avuto Io ho avuto Un gagapallo Che era mio E un gagapallo Che non era mio No Era sottillo mi hanno portato via perché l'ha preso il proprietario ed era un mio parente e l'ho insultato tanto e poi un altro pappagallo che si chiamava Kiko Kiko? Anche il mio pappagallo si chiamava Kiko era giallo no, era grigio ah, bellissimo però è volato via i gatti ne ho avuti tipo 12 e la madonna che fine hanno fatto erano gatti che non tenevamo in casa erano gatti miei, proprio miei però erano abituati fuori quando ho preso il cane, il cane ha iniziato a spaventarli tutti l'unico che trovavo era un gatto che era chiamato Slumo nel mio dialetto Slumo vuol dire che gli piacciono tanto le coccole anche a te mi piacciono le coccole io voglio tante coccole tante coccole, carruccia, non te le darò Slumo è morto no, Slumo poi altre domande avete mai sconfitto il drago con i retti? non penso sì no è la madonna, mega la madonna mi stai intrepido aspetta, aspetta Peter Runner mega hai mai detto la N-word? sì, l'avevo detto tutti tutti l'avevo detto la N-word è colpa di lui è colpa sua è colpa sua no 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 mi ricordo sei tu la N-word sei tu la N-word tu sei la N-word tu sei la N-word eh vabbè grazie Eros ha apprezzo un sacco è lo senso che nella serie ci siamo degli attori nati grazie mille grazie mille ha apprezzo un sacco questa cosa e una cosa bella delle mie serie che mio fratello deve starsene zitto è molto difficile che nelle serie avremo la stessa personalità infatti nella serie Epidemia mettete che io sarò quella sotto a tutti quanti capito no c'è tra virgolette no si si no lo so è un piccolo spoiler è proprio tipo capito è proprio un cambio è proprio un cambio di personalità ciao il gang benvenuto no scusa hai ragione hai ragione no non entravo in nessun server chiudiamo qua adesso che ho mal di gola dobbiamo registrare tra poco ci riposiamo un pochino insomma allora aspetta aiuto quante domande allora venga aspetta quasi me allora visto che sono quasi le nove si aspetta un attimo perfetto così beh beh no avete mai cambiato pc sì ovviamente i nostri cantanti preferiti a io sono un amante del kpop e quindi vi dirò leggi idol loro sono le mie cantanti preferite voi che cantanti preferite anche cantate preferite ma come scusi 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 i tattici nucleari che però è un gruppo anche leggi leggi non è un'altra è un'altra dicevi no no aspetta allora visto che sono quasi le nove me ne devo anche andare no chat salutate ann piccolino salutate annino ciao annino ciao annino ciao bellissimo ciao salutate salutate ah si mort sei ciao che ne so ti chiami il ganga io ti leggo il ganga mannaggia il clero ciao annino salutate ciao bello ciao 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 mamma mia ciao altre domande avete mai speso tanto per qualcosa di futile se si cosa io per i treni ah per i treni no per il tappettino delle server dm quello lì non l'ho pagato me l'hanno regalato ok allora niente io se mi ricordo no no siamo stanchi cosa si intende con spendere tanto 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 per qualcosa di inutile un intorno di quel tappettino eeeh cioè è inutile nel senso mi stai chiedendo se è inutile vabbè funziona l'importante si però è inutile quanto l'hai pagato no 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 il mio tappettino no il suo tappettino quanto l'ha pagato voglio sapere ah no grazie quanto costava ah ehi ti chiedono qual è il tuo cantante preferito io non ho un cantante preferito perché ascolto Fonk e Hardstyle però se devo proprio dirne uno sono i due gruppi cioè in FX e l'Imagine Dragons wow l'Imagine Dragons piacciono a tutti eh ovvio ovvio hanno fatto l l d la storia cantata preferito di infi eh ah ne un paio vengoni vengoni no a me non mi è piaciuta come come fai bene fai bene a me non mi è piaciuta a me non mi è piaciuta a me non mi è piaciuta cosa ascolti cosa ascolti non male fa un alfa me ti prego fate bravi fate vai vai cucetta cucetta bravissima basta niente di che bravissima ok poi ora se non abbiamo altre domande vi chiederei sono rimasti in 4 che triste eh sì di 7 poi vabbè comunque conclavita grazie Dennis nessuno fa di dirgli Eilish eh beh la si ascolta la si ascolta però non è non si capito cioè non sono super fan ecco beh ragazzi che dire mi ricordo che ho fissato con la sua cazzola di tempo fa mettiamoci qua al muretto salutiamo il pomerico grazie ad essere stati con noi amici qual è il coloro preferito di ognuno di voi il mio colore preferito i miei colori preferiti sono il verde il verde chiaro per precisione quindi lime il bianco e il rosa questi sono i miei tre colori preferiti mega il mio viola viola e basta viola e nero viola e nero ifi eh vabbè nero come sono vabbè vea quali sono i tuoi colori preferiti i miei si vedono nei miei occhi guardami negli occhi azzurro e rosso esatto avesse che sono i nostri colori preferiti eh sì eh era molto palese un più verde eh sì eh sì ciao 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 stavo chiudendo questa fantastica live grazie di essere stati con noi amici mamma mia bellissimo voi sentite il popolo della terra grazie di tutto il supporto che ci state dando ogni volta noi vi vogliamo tantissimo bene te poveri non riesco a prenderlo in quadratura su zoom eh ti vuoi mettere più al centro no capito aspetta ci stringiamo come ecco così ok bellissimo bellissimo perfetto 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 ok grazie di essere stati con noi amici miei e noi ci vediamo nella prossima live mi raccomando non mancate la premiere di domani del video scp io ci sarò ci stanno presenti anche forse qualcuno di loro forse anche vogliamo un sacco oggi non mi ha dormito ha detto che mi vogliono ha detto che ci vogliono bene l'ho detto ci vogliono bene grazie di essere stati con noi ragazzi il mio canale apoya vi saluta anche lui e noi ci vediamo alla prossima live ciao ragazzi ciao 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 ciao